Si tratta di un grande cantiere di restauro e di messa in sicurezza che ci fornisce delle informazioni davvero preziose sugli ultimi istanti di vita delle persone nell'eruzione del 79 d.C., sulle scelte che loro hanno fatto, che cosa portare e dove rifugiarsi. Ed è non più un'archeologia come storia dell'arte, come studio dell'architettura, ma è, come diceva Luigi Settembrini, quando vedeva i primi calchi delle vittime di Pompei, l'agonia, il dolore umano che noi vediamo. E Pompei ci richiede questa grande attenzione, questa perizia e questa esattezza anche nella documentazione, nella ricerca, ma soprattutto la responsabilità di sapere, di avere a che fare con un luogo di una catastrofe dove ancora dopo duemila anni troviamo la sofferenza e l'agonia delle persone che sono morte nel 79 d.C.